Amici di Generazione Non Stop, siamo sempre alla ricerca di dette e proverbi siciliani, oggi ci troviamo a Grotte. Buongiorno. Un detto o un proverbio siciliano, lo sa? Io non so quello che dice lei. Il proverbio siciliano è che siamo tutti a mare completamente. Buonasera. Siamo alla ricerca di detti e proverbi siciliani, voi ne sapete qualcuno? Proverbi, questi proverbi. Se fuori per me con Mario Luigi, io te ne lascio nelle argi. Come, come, di nuovo che bello, mi è piaciuto? No, non è che questo proverbio. Ti lascio in mano a Magaggigi, che ti lascio nelle argi. Ti lascio in mano. Per la via delle merimenti, di portare alle profonde. Proverbi siciliani. Proverbi siciliani, sì. Meccanusci tu, zio. Anche se siamo siciliani, non ci dedichiamo a questi proverbi. Ma prima c'era una riunione di famiglia, ma ora... Ora c'è la televisione, abbiamo capito. Mi raccomando. Di cosa parlavate? Niente, cacchia, rinuttele. Le ricorde nuoci del passato, lo sa quale sono? Quali sono i ricordi del passato? Non ce lo dico se siamo in televisione. Come non ce lo dico? Prima dici quale sono, lo sa quale sono. Siamo in televisione, non ce lo dico. Non si può dire. Mi ne ricordo uno, sì. Non si ricorda un proverbio, un detto siciliano? No, non mi ne ricordo manco uno. E invece una che si ricorda lei? Nel suo momento no. Non ci pensi, non ci pensi. Come che ci pensi? Che ti fai a cagliolano? Quanto anno tu o no? Così passerà l'anno, se viene il giorno. E beh, su questa bellissima canzone del signor Lamento la ringraziamo e continuiamo il nostro viaggio in cerca del proverbio siciliano. Grazie e una buona salata a tutti. Se Dio vuole la mula cammina, ci deve arrivare l'asano ad Aragona. Un scecco non l'asano. Ah, ma eri partito con la mula, a quanto pare sei arrivato con l'asano. No, un scecco di sì. Ah, un scecco. Ripeto di non averlo detto piano piano. Se Dio vuole la mula cammina, ci deve arrivare l'asano ad Aragona. Se Dio vuole e la mula cammina, ci deve arrivare... Su scecco a Aragona. ...questa asana ad Aragona. Quindi se sei partito con la mula e sei arrivato con l'asano. La asano qua mia? No, non dico asana a lei. Lei è partito con la mula da Grotte ed è arrivato ad Aragona con l'asano. Quindi ci fu un cambio durante il viaggio, no? Ah, certo. No, perché? Non mi dite che siete italiani? No, no. Allora siamo incappati male, eh? Buon viaggio, buon passeggio. E da Grotte è tutto. Un arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Il proverbio siciliano. Lei ne so... Grazie della gentilezza dateci.